Frigoni, guai a dire che il Movimento 5 Stelle è morto, ha ragione Renzi? Assolutamente sì, però i cittadini hanno capito che dal punto di vista amministrativo hanno dei grossi limiti. Cioè hanno pagato la Raggi, hanno pagato la Pendino. Un sacco di amministrazioni del Movimento 5 Stelle che hanno fatto acqua da tutte le parti. L'unica paradossalmente che è andata bene è quella di Parma, però lì è il sindaco che ha abbandonato la nave del Movimento 5 Stelle. Ora con tutto il rispetto degli elettori del comune bergamasco di Parzaniga e del sindaco che comunque è riuscito a vincere, la sottolineatura da parte del collega Crimi di questa vittoria è la misura della difficoltà generale. Il successo di cui comunque è stato colpito, io lo dico, come lega anche il Partito Democratico.